La vita attraverso la placenta, dalla cellula alla vita, i primi 2000 giorni di vita. Dottoressa Nava, prego. No va bene, voi sapete che io sono già stata ospite di Giorgio da qualche anno e mi aveva sempre messo al pomeriggio tardi, oggi ho detto che bello, mi ha messo al mattino, ma che onore. Poi non so quanto sia stato facile, perché venire dopo tre luminari, professori come loro. Io sono una semplice dottoressa, non faccio ricerca, visito donne, sono ginecologa. Sono sicuramente una ginecologa che piange ancora ad ogni bambino che vede nascere, per cui forse mi accomuna con loro l'emozione. Però devo dire che farò un po' fatica, quindi perdonatemi, perché sono ancora emozionata per le relazioni che mi hanno preceduto. Quindi vi volevo appunto ricordare i miei due primi interventi. Nel 2022 avevamo parlato di questi meravigliosi mille giorni che vanno dal concepimento al compimento del secondo anno di vita e che, ricordiamo, sono davvero importanti nel determinare la resilienza del bambino nato che diventerà poi adolescente, adulto. L'anno scorso vi ho parlato di questo eroe, secondo me, che l'ovocita, perché davvero è una cellula magica che addirittura, avevamo visto, riesce a riparare i danni degli spermatozoi, visto che sono quasi sempre messi maluccio. E sapendo e avvisandovi che non farò in tempo a parlarvi di tante cose in 20 minuti, vi invito anch'io alla primo weekend che io e Luigi Montano condivideremo proprio nel parlarvi dell'importanza di mantenere sane le nostre cellule gamete. Quindi sarà davvero un onore condividere la mattina di domenica 13 con Luigi Montano. Sarà veramente molto bello. E ovviamente ringrazio tantissimo ancora Giorgio perché già ieri lui ci ha proiettato questa immagine che è da dove tutto nasce, da dove tutto parte. Ed è un momento magico. Vi ho ricordato che a proposito di luce, quando l'ovocita viene raggiunto dallo spermatozoo, illumina, cioè lo zinc spark, scoppiano queste molecole, queste sacchettine pieni di zinco e si crea proprio una scintilla. Ma perché da quel momento poi arrivi la nascita di un bambino, ci vuole che si formi un organo fondamentale che tutti stanno trascurando, cioè la placenta. Ora vorrei, se la platea mi dà una mano, chi di voi ha realmente in presenza assistito a un'immagine del genere, cioè di un bambino che è già attaccato al seno della sua mamma con ancora attaccato la placenta? 3, 4, 5, 6, quindi la placenta ancora attaccato al bambino mentre già ha trovato la fonte nutrizionale che è il seno. Fatene tesoro perché è un'immagine rara ai giorni d'oggi e io spero di portarvi alla fine di questa relazione a capire che invece è dove dobbiamo andare insieme a tutto quello che ci ha insegnato. La placenta ha davvero tante funzioni, è un organo che a termine di gravidanza pesa circa mezzo chilo ma per nove mesi ha funzioni di rene, di fegato, di polmoni, di stomaco, ha funzione endocrina, se cerne. Il primo accenno di gravidanza è la determinazione della gonadotropina corionica che è una secrezione endocrina della placenta, ha funzione immunitaria e barriera protettiva. Ebbene il 99% delle placente finisce in questo modo. La placenta nella nostra immagine è un mero passaggio tra il sangue materno che permette quindi il passaggio nel letto fetale di ossigeno e nutrienti e accoglie il sangue materno dal circolo fetale, la CO2 e i prodotti di scarto del metabolismo fetale. In realtà è molto più di questo. E intanto degli studi recenti hanno proprio visto che se nel sangue materno ci sono delle molecole tossiche che arrivano attraverso le varie esposizioni alimentari, cosmeti, integratori, vedremo, essi passano nel circolo fetale. Tant'è che un amico studioso italiano, l'Antonio Ragusa, l'ha chiamata la plasticente in un recente studio che ha dimostrato la presenza di nanoparticelle di plastica nella placenta umana. Poi so che Luigi dirà che l'abbiamo trovato anche nello sperma, per cui dobbiamo davvero stare attenti. Ora vado veloce su questo concetto perché ve ne ho parlato, chi mi conosce è stufo di sentir parlare, che il Ministero dell'Ambiente italiano e l'Istituto Superiore di Sanità ha ben prodotto questo decalogo per il cittadino ahimè dieci anni fa sugli interferenti endocrini e ancora troppi pochi di noi conoscono e divulgano perché questo è un semplice booklet, librettino per il cittadino, divulgatelo, fatelo leggere e ben i nostri clienti impareranno che il bisfenolo, appunto una delle componenti della plastica, è un forte disturbatore endocrino che altera proprio a livello fetale il sistema riproduttivo nervoso ed immunitario. Ora vi parlo di un recentissimo articolo perché questo invece è un articolo del 2024 che parla di nanoparticelle che addirittura alterano proprio il secretoma placentare dando conseguenze sull'angiogenese, sulla vascularizzazione placentale. Voi quindi capite che se noi alteriamo l'angiogenesi placentare creiamo grossi danni poi alla crescita, allo sviluppo di questo bambino. Stiamo parlando di diossido di titanio, diossido di silicio e prodotti del diesel esausto, diciamo così. Hanno fatto degli studi confrontando il primo trimestre e il terzo trimestre e quando le placente erano raggiunte da queste nanoparticelle fin dal primo trimestre si creavano proprio dei danni dell'angiogenesi con la conseguenza nel terzo trimestre io qui non riesco a puntare perché sono troppo decentrata di quelle tipiche patologie della gravidanza che vediamo noi ginecologi e per la quale poi diciamo eh ma noi dobbiamo ospedalizzare tutti i nostri bambini quando nascono perché sono troppo piccoli o perché la mamma la preeclampsia non pensando che magari questo poteva essere prevenuto quindi io adoro parlare in queste sede perché parliamo di medicina preventiva prevenuto magari dal informare le nostre gravide che non dovevano essere esposte a queste nanoparticelle che come ben documenta il lavoro io tutti i lavori che ho ce li ho sul computer in pdf chi li vuole mi porta la chiavetta nella pausa pranzo e glielo scarico già proprio dei danni di angiogenesi bene ma io adesso ho coperto i nomi commerciali perché non sapevo se poterlo esporli ma non essendoci gli ECM penso che nessuno mi faccia storie se vi dico che questo è l'acido folico più venduto in Italia e penso anche altrove che ha come principio attivo 5 mg di acido folico e questi sono i suoi eccipienti tra cui il titanio di ossido viene dato possibilmente tre mesi prima il concepimento durante tutta la gravidanza e oltre questo è il principale farmaco che viene dato alle gravide per l'iperemesi per il vomito principio attivo la doxilamina un sacco di eccipienti compreso il biossido di titanio che è una di quelle tre nanoparticelle in cui l'articolo recente ci dice che altera l'angiogenesi placentare del resto l'EFSA stesso ci dice che il biossido di titanio non è più considerato sicuro come additivo alimentare già da alcuni anni non tantissimi per la verità ed è riconosciuto come genotossico e che si può accumulare nell'organismo umano del resto se io do una molecola di folina posso fare il nome commerciale quattro molecole di nuperal ed una gravide in agli inizi della gravidanza che ne so io se questa donna in più direte voi e vabbè ma una piccola dose come colorante di della compressa dell'integratore ma che ne so io di quante altre dosi di queste nanoparticelle lei si mangerà nei cibi, nelle brioche, nelle zuppe, in tutti i cibi pronti e iperprocessati e questo è addirittura la fondazione veronesi che ci dà l'allerta bene quello che a me fa più rabbia è che questo è un ulteriore prodotto anti-iperemesi gravidica voi notate quanti eccipienti ha dentro questo principio ed è stato ben formulato e registrato a livello dell'EMA a gennaio 2024 allora io posso capire che la folina abbia dentro il biossido di titanio nessuno lo sapeva era registrato probabilmente decine d'anni fa ma questo è stato registrato a gennaio 2024 quando l'EFSA l'aveva già segnalato da almeno 4-5 anni allora io mi chiedo perché dovrebbero colorare queste compresse con il titanio di ossido questo è una domanda che lascio cadere nella platea perché io non me la so dare la risposta so solo che visto che noi sappiamo dell'esistenza dell'S-Drive utilizziamolo perché alla fine della fiera che io sappia è l'unico test che mi permette anche di segnalare e specificare un po' alla paziente che ho di fronte che ci sono degli additivi che trova negli alimenti ultraprocessati o addirittura nelle compresse di farmaci integratori che compra in farmacia anche perché passa il concetto che in farmacia ciò che viene venduto è tutto sano io vi sfido a comprare una crema solare in una farmacia un disastro ok passiamo ad altre molecole che possono danneggiare la nostra placenta parliamo di metalli pesanti questo in realtà è un articolo più datato e che vi ho già portato gli anni scorsi quando cercavo di segnalarvi il fatto che nei primi mille giorni di vita dobbiamo anche agire in termini di un pochettino di prevenzione dell'autismo e dello spettro che lo caratterizza bene il metallo pesante che possa raggiungere il letto fetale sia in esposizione pre e perinatale aumentano è proprio ormai sono abbastanza dimostrati gli studi scientifici che contribuiscono all'estremo aumento ieri Giorgio ci ha fatto ben vedere la linea dell'autismo che negli Stati Uniti d'America ha raggiunto un bambino nato su 36 affetto da questo spettro ora il ruolo della placenta nell'esposizione metalli pesanti è molto importante perché la placenta ci prova in tutti i modi attraverso la metallo tiuneina a cercare di accumularli sul suo territorio e non farli arrivare al feto riesce abbastanza bene con il cadmio mentre mercurio e alluminio assolutamente non ci riesce tanto per cui in realtà i metalli pesanti passano la barriera placentare e arrivano fetale questo è un altro articolo abbastanza datato del 2013 che appunto dimostra proprio una mini review di come la placenta cerca di fare storage cioè accumulo di questi metalli pesanti senza in realtà riuscirci e un altro segnale è io vorrei che tutti ci alzassimo e gioissimo del fatto di possedere e di conoscere perché questo è un privilegio che noi abbiamo di conoscere l'S Drive è un privilegio che dovrebbero avere tutti e perché no cerchiamo di alzarsi e di gioire anche per il fatto che la nostra mamma aveva una bella placenta che in qualche modo ci ha tutelati sul passaggio di molecole tossiche forse quando eravamo noi feti forse eravamo meno esposti ma non penso perché comunque molti di noi sono stati conceputi nell'epoca dell'industrializzazione cioè di questi e c'era anche forse meno consapevolezza quindi primo messaggio la placenta che ci tutela aiutiamo le nostre placente quelle delle nostre pazienti ad essere pronti a assorbire i tossici beh il messaggio è che ad esempio il self food può essere dato in gravidanza io lo do tranquillamente è fonte di ossigeno per cui queste paciente riescono anche a nutrire bene i bambini e in qualche modo ha un pochettino anche di potere di detossificazione ora veniamo invece al titolo proprio della giornata che coinvolge la longevità e vi porto e vi presento e chi lo vuole poi lo può scaricare questo articolo che è super recentissimo pubblicato a luglio 2024 che chiede vuoi vivere fino ai 100 anni? Devi avere un super powerful sistema immunitario ora non c'entra niente con l'ostetricia questo articolo per cui e sentirete parlare di tanti aspetti che tratta questo articolo dai colleghi che mi seguiranno e vedrete quindi sentirete parlare di senescenza stress ottidattivo i telomeri l'epigenetica gli stili di vita parleranno di attività fisica io però mi concentro sulle cellule staminali le cellule staminali che si esauriscono precocemente sono una fonte per la quale l'aging cioè l'invecchiamento porta alla fragilità ok quindi la non riuscire a riparare bene quindi quanti anziani noi abbiamo fragili ad esempio nelle case di riposo bene ora quindi l'ultimo messaggio che vi voglio lanciare è le cellule staminali in primis dove sono? nel cordone umbilicale che è fonte di vita ora questo bambino questa foto è un super lucky baby è un bambino fortunato che ha attaccato a sé il cordone umbilicale e la sua placenta anche dopo molti minuti essere nato e quindi lo vedete il cordone umbilicale è super svuotato tutte le cellule staminali e sto bambino se le prese lui e l'organizzazione mondiale della sanità ci dice che il clampaggio del cordone umbilicale ritardato è fonte di miglioramento della salute e degli outcome nutrizionali sia materni che infantili tant'è che c'è un recente 2018 articolo che compara bambini in cui il clampaggio del cordone umbilicale è avvenuto dopo almeno 5 minuti dalla nascita del bambino a bambini in cui il clampaggio è avvenuto immediatamente bene a 4 mesi i bambini con il clampaggio ritardato dimostravano sviluppi neurocomportamentali migliori grazie a un aumento del livello di ferritina nel sangue del bambino che aveva permesso una miglior mielinizzazione del sistema nervoso quindi la circolazione fetale peraltro io ricordo che ha esclude il circolo polmonare voi sapete che c'è il dotto aperto tra i due atri e il dotto di botallo e il forame ovale che esclude il circolo polmonare nel feto i polmoni non vengono irrorati o in minima parte giusto per tenerli nutriti ok il liquido amniotico del resto viene fatto in maggior parte dall'urina fetale ma molto anche dal fluido polmonare allora partiamo da questa voglio che immaginate quando nasce un bambino i polmoni del bambino sono pieni di liquido amniotico chi mi dice ancora che il bambino ha bevuto liquido amniotico mentre nasceva lo picchio perché non può bere liquido amniotico un bambino c'aveva dentro il liquido amniotico nei polmoni il bambino poco prima di nascere cosa permette di eliminare il liquido amniotico dei polmoni del bambino la riempimento vascolare polmonare che avviene subito dopo la nascita grazie attraverso l'ossido nitrico che in questo caso ha un altro effetto rispetto a quello che ha detto il professor Iorio che mi sono un po' emozionata ok l'epoca della nostra vita l'epoca della nostra vita nella quale abbiamo la più alta concentrazione di ossido nitrico sintetasi è poco prima di nascere sale 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 durante il terzo trimestre di gravidanza permette questa mega vasodilatazione polmonare all'atto della nascita ma questi vasi polmonari con che sangue si devono riempire con quale sangue si devono riempire i vasi polmonari che porteranno via il liquido amniotico e quindi poi quando entra l'aria riesce il bambino a scambiare gas a livello dell'alveolo attraverso il sangue placentale allora voi me lo volete chiedere spiegare perché ancora oggi nei nostri ospedali la maggior parte dei bambini viene clampato entro il primo minuto di vita questo è un cordone umbilicale ancora pieno di sangue già clampato ok quindi questo bambino prenderà il sangue dal cervello o dagli arti per portarlo ai polmoni non può prendere quello della placenta gliel'abbiamo clampato quindi sarà stato forse il business del stoccaggio delle cellule staminali a livello delle banche che ne sono pieni a suon di 2000 euro quante famiglie sono state invitate convinte a mettere via cellule staminali ovviamente dobbiamo clampare il cordone prestissimo se vogliamo raccogliere le cellule staminali dal cordone forse perché la società italiana di neonatologia dice che la placenta è un rifiuto speciale e lo dobbiamo buttare via non lo so perché so che però c'è un movimento e noi facciamo dobbiamo far parte di quel movimento che cerca di capire che la nascita può avvenire in un altro modo e oggi le donne che sono convinte di questo stanno addirittura scegliendo di tornare a partorire a casa per portare per mettere al proprio bambino di affrontare un parto secondo le leggi della natura e con le prossime diapositive io voglio ringraziare innanzitutto Giorgio che mi ha invitato e mi permette di dare questi messaggi che sono un po' forti me ne rendo conto fanno parte di una medicina che vuole un po' uscire dagli schemi lo so ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato ringrazio ovviamente chi mi ha preceduto perché un'emozione così forte mi fa anche capire che sto andando nella direzione giusta ma soprattutto ringrazio le decine di ostetriche che con coraggio assistono le nascite fuori dall'ambito ospedaliero perché sono costrette perché nell'ambito ospedaliero vengono boicottate e quindi spero che tutti voi ci aiutate perché io ad esempio ho visto nascere un bambino per strada fuori dall'ospedale io ero in sala parto mi hanno chiamato il tempo che sono arrivata giù la bambina è ragionata saranno passati due o tre minuti ho trovato il papà del bambino paunazzo perché stava stringendo fortissimamente il cordone ombelicale e gli ho detto ma cosa sta facendo è un infermiere del pronto soccorso che era uscito prima di me perché il pronto soccorso è a piano terra io ero al quinto piano ma ha detto che dovevo stringere fortissimo perché è pericoloso se il bambino ha il cordone ombelicale attaccato alla placenta cioè capite che no ecco perché noi dobbiamo dare questi messaggi a tutti voi perché questo concetto deve divulgarsi il bambino può nascere e avere il clampaggio del cordone ombelicale anche dopo diversi minuti addirittura dopo che la placenta è uscita dopo il secondamento questi sono due messaggi ne avrei tantissimi ma seguite la scuola ne daremo altri grazie 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 grazie